Sono felice di aver contribuito ma soprattutto sono strafelice per i tre punti perché era una partita questa fondamentale per noi in più dopo la maratona di martedì insomma non era facile quindi da questo punto di vista siamo stati molto bravi anche quando nel terzo set li abbiamo fatti rinascere ci siamo complicati molto la vita un po' per merito loro ma molto anche per demerito nostro però insomma reagire come abbiamo fatto nel quarto set e giocarcela comunque punto a punto fino alla fine è una bella dimostrazione di carattere dobbiamo ripartire da qui per noi sono importanti anche al di là delle vittorie un punto alla volta perché la classifica è molto corta può succedere di tutto sia in avanti che indietro quindi non dobbiamo fasciarci troppo la testa era importante vincere queste due partite in casa fare più punti possibili e credo che da questo punto di vista siamo stati bravi adesso azzeriamo tutto ritorniamo con questo spirito e cerchiamo di migliorare ancora perché sarà ancora molto lunga e dura grazie grazie grazie